Grazie alle primis preside, alle professoresse, insomma vi ringrazio perché è per conto il nostro figlio. Io personalmente all'inizio ero un po' non convinta, adesso sono molto prestissima e vi ringrazio per tutto quanto sia lo che state facendo. Grazie. Questo è l'inizio del progetto, abbiamo realizzato delle piantine. Grazie.